Siamo con Carecas che questa sera ne ha messe dentro quattro. Un Forte dei Marmi che arriva da un pareggio e ora una vittoria, quindi a quattro punti. Cosa può fare il Forte dei Marmi in questo campionato? Il Forte dei Marmi può essere una squadra molto rognosa, piazzarsi molto bene in classifica e dar noia alle squadre che sappiamo tutti sono le pretendenti per salire in A1. Stasera è stata una partita molto dura, molto bella da vedere, a mio parere. Alla fine l'abbiamo spuntata, ci manca più cattiveria sotto porta perché alla fine abbiamo avuto 30 occasioni nitide e le abbiamo fatte solo 7, però molto belle. Solo 7 che è comunque un numero alto sia da parte vostra che da parte del Sarzana nonostante le ottime prestazioni di tutti i portieri che hanno fatto davvero belle parate. Quindi una squadra in crescita, una squadra che può migliorare, una squadra comunque molto giovane e che se la può contendere con squadre anche un po' più anziane diciamo. Sì, sì, penso esattamente così. Noi siamo una squadra molto giovane, quindi diciamo corriamo molto, abbiamo anche una panchina molto larga, possiamo dare spazi e correre molto, quindi possiamo dare molto noia alle squadre anche più importanti.